E' sull'imbruniere della serata di ieri che le vie del centro storico si sono riempite di persone che attendevano la processione delle varicelle, ovvero i piccoli gruppi sacri. Una tradizione che si ripete dall'Ottocento, dove gruppi di ragazzi, i carusi delle miniere, ma anche gli apprendisti di bottega, i figli degli artigiani e gli studenti, diedero vita ad un corteo di piccole rappresentazioni che riproducevano in una forma minore quella delle varie del Giovedì Santo. Grande entusiasmo per il ritorno e tanta partecipazione, nuove generazioni e le generazioni che le hanno precedute insieme unite, per ritornare alla normalità e per ritornare alle radici, all'identità di una Caltanissetta sempre autentica. Tutti siciliani e non solo, ma venire a visitare Caltanissetta perché vive una città che nel cuore di Sicilia vive di grande passione. Nove piccoli gruppi sacri che rappresentano la via Crucis, la passione di Cristo, appartengono alle famiglie, ai privati, le prime risalgono, c'è già quasi 100 anni, dal 1924 già venivano fatte le prime, ma la processione è più vecchia.